Qui alla seconda giornata del piano quartieri abbiamo avuto un clima molto molto positivo e partecipativo da parte di tutti gli interlocutori che sono intervenuti nell'incontro di stamani. I cittadini hanno contribuito in un clima proprio di scambio, di impressioni e anche di proposte, in quanto sia all'accoglienza che nelle singole stanze tematiche abbiamo riscontrato uno scambio molto interattivo. Sono state molte persone che arrivavano interessate, già preparate. Circa il 50% delle persone hanno lasciato nell'urna la loro proposta al di là di tutte le osservazioni fatte direttamente nelle stanze tematiche. Abbiamo ricevuto anche in questa occasione dei feedback molto positivi legati soprattutto al fatto di avere a disposizione tecnici comunali competenti che sanno parlare dei progetti che portiamo sul territorio e quindi persone qualificate con i quali confrontarsi. Devo dire che anche i cittadini in questa occasione hanno dimostrato di essere qualificati in un'atmosfera genericamente molto positiva e ben percepita.